Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti e benvenuti. È il terzo di tre figli nati da John e Shirley Price. Come al solito per ricostruire il caso partiamo dall'inizio, o meglio, proprio dai genitori di Craig. Shirley nasce nel South Carolina, ma si trasferisce con la sua famiglia a Boston quando ha 16 anni. Si diploma in un liceo femminile e si iscrive al college, tuttavia frequenta le lezioni soltanto per tre semestri, perché poi inizia a lavorare. Alla fine degli anni Ottanta svolge ben due lavori, quello di segretaria e quello di commessa nei magazzini Kmart. John invece nasce nel Mississippi e anche lui si trasferisce con la sua famiglia a Boston, precisamente nel 1965. Frequenta un istituto tecnico prima di entrare nel mondo del lavoro e qui le fonti sono diverse. In alcune si dice che John lavora da Kmart occupando una posizione dirigenziale. In altre si dice che, grazie agli studi intrapresi, negli anni Ottanta riuscirà a ottenere un posto come manager presso la Pepsi Cola Company a Cranston. John e Shirley si conoscono nell'ambiente di una chiesa battista di Boston nel 1967. Le famiglie rispettive si frequentano già e Shirley e John avevano cantato nel coro della chiesa. La coppia si sposa nel 1968 e la prima figlia dei coniugi Price, Kimberly, nasce nell'agosto dello stesso anno. Nel 1972 viene alla luce John Junior e, un anno dopo, Craig, il protagonista del caso di oggi. Come accennato, i membri della famiglia Price sono devoti della comunione battista e, man mano che i figli crescono, John e Shirley sono sempre pronti a ricordare ai ragazzi che loro sono sì dei figli di Dio, ma affidati a genitori umani, i quali hanno un solo dovere da assolvere, insegnare loro come vivere al meglio la propria vita sulla terra. Craig, in particolare, è un ragazzino irrequieto, per strada corre sempre da un posto all'altro senza prestare troppa attenzione. Infatti, all'età di tre anni, sgattaiola fuori di casa e un'automobile lo investe ferendolo a una gamba. A sette anni, Craig verrà colpito alla testa da un sasso pesante, mentre a nove anni si romperà la clavicola cadendo da una sedia. Nonostante i pasticci e gli infortuni, Craig cresce diventando sempre più simpatico. Chi lo conosce dice che ha il dono di mettere di buon umore il prossimo. Nel 1978, la famiglia Price si trasferisce nel quartiere di Badon Woods, di Warwick, nel Rhode Island. È Shirley a scegliere questa zona perché è dotata di un buon sistema scolastico pubblico. Quando Craig ha dieci anni, ci sono tre fondamentali passioni a cui si dedica. Il baseball, il football e la sua amata chitarra elettrica, Rosso Fuoco. Negli sport eccelle, i suoi amici o i vicini lo descrivono come un ragazzo semplice a cui piace l'hard rock e la musica rap. Craig è sempre circondato da tanti amici, tutti amano il modo in cui parla e le storie che racconta. È molto divertente e sa come mantenere l'attenzione concentrata su di sé. Alcuni pensano addirittura che una volta cresciuto potrebbe diventare un cabarettista. Craig, però, non è soltanto una compagnia gradevole, ma si mostra anche molto rispettoso nei confronti degli adulti. Svolge dei lavoretti per gli abitanti del vicinato, come tagliare l'erba o spalare la neve dai loro vialetti, in cambio di qualche soldo. Gli insegnanti di Craig sottolinano che è uno studente brillante e a scuola si impegna tanto e ottiene il massimo dei voti in ortografia e lettura. Eppure le cose cambiano e quell'immagine ben delineata della personalità e delle buone abitudini di Craig comincia ad assumere contorni sfumati. Quando ha tra i 10 e i 13 anni la scuola non sembra più interessargli. Inizia a saltare le lezioni, quindi viene bocciato e gli tocca ripetere la seconda media. In questo periodo Craig sperimenta pure le sigarette e le sostanze, comincia a compiere piccoli furti o ancora ruba le automobili. Di conseguenza litiga sempre più spesso con i suoi genitori, viene beccato durante uno dei suoi furti e finisce in libertà vigilata dopo aver subito un processo al tribunale dei minori. Shirley racconta che una volta Craig era tornato a casa e aveva dato dimostrazione di non essere per niente in sé. Infatti aveva assunto parecchi anni. La madre non aveva esitato a ficcarlo in macchina per portarlo a Boston e trovare sua zia ed entrambe le sue nonne, sperando che riuscissero a farlo ravvedere. Stando a ciò che racconta Shirley, l'avevano fatto sedere e avevano iniziato a leggere tutte insieme le sacre scritture, più che altro urlandogli addosso. Craig, che si trovava in uno stato di alterazione, intanto immaginava serpenti e angeli in versione psichedelica. Al termine della lettura le donne lo avevano abbracciato, dichiarando che, da quel momento preciso, Craig non avrebbe più sentito il bisogno di assumere sostanze. Mai più! In realtà ignoravano una cosa ben peggiore, cioè che Craig aveva iniziato a desiderare che qualcuno morisse fin dall'età di 9 anni. Ora vi racconto l'episodio scatenante. È un giorno di agosto, quando Craig esce di casa in sella la sua nuova bicicletta. Mentre sta pedalando insieme agli amichetti, un estraneo interviene per rovinargli la giornata. Craig sente chiaramente qualcuno che gli lancia insulti razzisti, ma siccome è impaurito, prova a fare finta di niente. Poi però, una pallina da golf lo colpisce. Lui si ferma e nota un ragazzo di circa 20 anni che continua a insultarlo dall'altra parte della strada. Il giovane che lo importuna gli chiede se quella bicicletta l'avesse rubata, e lo apostrofa con quella parola offensiva che inizia con la n, in quanto Craig ha la pelle scura. Gli amichetti di Craig chiaramente propongono di allontanarsi dalla zona, proseguendo per la loro strada. Craig li segue, ma pure il ragazzo gli va dietro in macchina. Ora è insieme ad altri amici, pronti ad accostarsi a Craig per schernirlo ancora. Craig ha paura, è convinto che quei ragazzi vogliano ucciderlo. In preda al panico, quindi, va a sbattere contro un marciapiede e la sua bicicletta nuova si rompe. Adesso Craig ha soltanto un desiderio che gli riempie il cuore. Vuole che quel ragazzo e i suoi amici muoiano. Quando torna a casa, Craig piangendo racconta a suo padre che aveva urtato contro un marciapiede perché stava pedalando molto forte e il genitore lo punisce, dandogli qualche scolacciata. Ciononostante, Craig non gli rivela di aver subito degli insulti pesanti. Alcuni sostengono che questo incidente preciso sia stato il catalizzatore che ha alimentato la sua rabbia. Ma approfondiremo. Ora vi parlo di coloro che sfortunatamente hanno incrociato il proprio destino con quello di Craig. Subito dopo il fine settimana della Bordei, Marie Bachard e sua figlia Mary Lou decidono di fare un salto proprio nel quartiere Bottom Woods di Warwick. È il 4 settembre 1989. Marie ha un'altra figlia più grande, la 39enne Joan Heaton, che tuttavia non sente da qualche giorno. Anzi, sembra proprio essere sparita. Tutto ciò risulta strano, non è tipico di Joan e nemmeno delle sue figlie. Non dare notizie per quattro giorni. È per questo che Marie e Mary Lou si sono dirette a cercarle. Quando si fermano davanti alla casa di Joan, notano subito che la sua automobile è al solito posto, nel dialetto. Allora si domandano come mai né Joan né le sue figlie abbiano aperto la porta, nonostante le due donne avessero bussato più volte. Così si recano sul retro della casa ed entrano percependo all'istante che è successo qualcosa di agghiacciante. Spiccano tracce di sangue dappertutto e dalla casa proviene un odore terribile. Marie e Mary Lou avanzano di qualche passo e intravedono Joan sdraiata nel corridoio, avvolta da un lenzuolo inzuppato di sangue. Vicino a lei c'è il corpo senza vita di Jennifer. Marie e Mary Lou scorgono infine anche il cadavere di Melis, svoltando l'angolo da cui si ha accesso in cucina. Madre e figlia sono sconvolte dinnanzi all'evidenza di quegli omicidi brutali, ma fanno attenzione a non spostare nulla per evitare di alterare le tracce e tornano all'esterno per contattare la polizia. Nel giro di pochi minuti i paramedici e due detective del dipartimento di polizia di Warwick arrivano sul posto. Le autorità immediatamente dispongono il nastro di delimitazione attorno alla casa, poi entrano nell'abitazione per esaminare la scena del crimine. Questa non è la prima volta che i detective Kevin Collins e Tim Colgan si imbattono in dei cadaveri, ma la natura feroce dei delitti commessi li turba. Le vittime sono state pugnalate molte volte con dei coltelli da cucina. Melissa era stata colpita così forte che la lama dell'arma si era rotta e giace ancora conficcata nel collo. Inoltre l'efferato assassino l'aveva anche colpita alla testa con uno sgabello da cucina. La violenza esercitata era tale da rendere ben visibile la frattura. Quanto a Joan, i detective Collins e Colgan riescono a determinare che la donna ha ricevuto circa 57 coltellati inferti su tutto il corpo. Il lenzuolo che l'avvolge è inzuppato di sangue, quindi i detective stabiliscono che la morte di Joan è avvenuta per dissanguamento. Il suo aggressore l'ha colpita con un oggetto contundente dopo aver tentato di strangolarla. Il medico legale potrà determinare il giorno della morte delle vittime quando verrà eseguita l'autopsia e al termine dell'esame autoptico stima che il decesso di tutte e tre è avvenuto circa tre giorni prima che le due parenti rinvenissero quei corpi senza vita. La notizia del feroce e triplice omicidio si diffonde in città rapidamente. Warwick subisce di rado crimini così violenti e i residenti della zona avvertono che il loro mondo pacifico è andato in frantumi. Non si sentono più al sicuro fuori dalle loro case ma in realtà nemmeno all'interno. D'improvviso quel quartiere così tranquillo diventa pericoloso e sono tutti confusi su come proteggere se stessi e le proprie famiglie. Pertanto i residenti si rivolgono subito alle forze di polizia di Warwick, sperando di ottenere quelle risposte di cui hanno disperatamente bisogno. I detective dal canto loro non vogliono ammettere di non essere in possesso di indizi che potrebbero condurli all'assassino. Gli investigatori promettono alla comunità che non si fermeranno davanti a nulla pur di scoprire il colpevole. Ed è una promessa che intendono mantenere. Consapevoli di quanta attenzione i media dedicheranno a questo caso, il dipartimento di polizia incarica immediatamente i suoi migliori detective di dirigere la squadra composta da 27 funzionari delle forze dell'ordine. Tutti gli agenti coinvolti lavoreranno strenuamente per individuare l'autore di quegli orribili omicidi, 24 ore su 24, esaminando e riesaminando le prove raccolte sulla scena. Gli investigatori inoltre interrogano a lungo i residenti del quartiere nell'intento di reperire informazioni utili. Greg O. McCrary, agente dell'FBI e uno dei suoi migliori profiler, viene chiamato per supportare le indagini con la propria esperienza. La sua sensazione è che l'assassino della famiglia Heaton viva in quello stesso quartiere. Infatti Greg suggerisce una teoria che sorprende gli investigatori locali, e cioè che l'omicida della famiglia Heaton possa essere la stessa persona che aveva ucciso una donna di nome Rebecca Spencer, di 27 anni, nello stesso quartiere, ma due anni prima. Suo fratello aveva scoperto il cadavere di Rebecca sul pavimento del soggiorno, quando era rientrato dal lavoro una mattina. Il medico legale aveva eseguito l'autopsia sul corpo di Rebecca, e aveva stabilito che l'assassino l'aveva pugnalata molte volte con un coltello da imballaggio. Rebecca aveva trascorso tutto il pomeriggio a riempire e chiudere scatoloni, aveva quattro giorni di tempo per liberare la casa e trasferirsi nella sua nuova residenza, in un altro quartiere. Non poteva immaginare che i suoi sforzi sarebbero stati vani. Dunque, l'agente dell'FBI ha riscontrato varie somiglianze tra le due scene del crimine, e non può ignorare questa pista. Non importa quanto poco verosimile la considerino gli altri. Più precisamente, l'agente McRary nota che sia Rebecca che le vittime della famiglia Heaton sono state pugnalate a morte, con armi recuperate, all'interno delle loro case. Dunque, è convinto che quando il colpevole si era introdotto lì, non aveva intenzione di uccidere. Piuttosto, secondo McRary, il suo fine era eseguire un furto con scasso. Tuttavia, una volta in casa, le vittime avevano avvistato o affrontato l'intruso. Allora lui aveva afferrato l'arma più prossima per metterle a tacere. Se questa pista è attendibile, è vero anche che di solito i ladri rubano nelle residenze che hanno già avuto modo di conoscere e studiare. Se hanno maggiore familiarità con la struttura e l'interno dell'abitazione, diventa più probabile recuperare un buon bottino. Quindi spesso la dimora individuata per la rapina appartiene a un vicino o a qualcuno che abita nei pressi dell'ideatore del furto. L'agente dell'FBI McRary teorizza dunque che l'assassino di Rebecca e della famiglia Heaton abbia fatto irruzione nelle loro case per derubarle. Probabilmente le conosceva e in effetti la casa di Rebecca e quella degli Heaton sono vicine, molto vicine. Un altro motivo per cui McRary percepisce che il colpevole è l'anello di congiunzione tra i due casi è l'evidente overkilling che si è verificato in entrambi gli omicidi. In effetti l'assassino ha pugnalato Rebecca e Joan tra le 57 e le 58 volte. La vittima con il numero maggiore di coltellate ricevute è Jennifer. Il medico legale ne conta infatti 63. Melissa la più piccolina era stata coltellata per 30 volte prima di essere colpita a morte con quello sgabello da cucina. Fin da subito è emerso che l'assassino si è mosso in maniera disorganizzata. Durante i primi sviluppi del profiling i funzionari delle forze dell'ordine teorizzavano che i serial fossero classificabili in due categorie, organizzati e disorganizzati. Comunemente associavano le seguenti caratteristiche ai serial disorganizzati. Gli omicidi non sono mai pianificati né seguono alcun tipo di rituale. Il predatore disorganizzato è giovane e o ha una malattia mentale di qualche tipo. La maggior parte non ha abilità sociali significative. In genere crescono in famiglie instabili o disfunzionali o ancora in una famiglia con un solo genitore o con entrambi i genitori assenti. Molti di loro hanno alle spalle una storia di abusi da parte di un membro della loro famiglia. Quasi tutti gli abusi sono fisici ma gran parte sono anche intimi e o psicologici. La maggior parte di loro non ha istruzione e coloro che hanno un lavoro sono impiegati come manovali non qualificati, vivono vicino alla scena del crimine e le loro vittime sono bersagli totalmente casuali. Quasi sempre lasciano evidenti prove forensi che le incastrano. Usano una forza improvvisa e travolgente. Inoltre attaccano le loro vittime in modo eccessivo sfociando nell'overkilling. Non si prendono il tempo di nascondere i corpi delle loro vittime. A questo punto l'agente speciale McRary ha un'illuminazione. Probabilmente devono cercare qualcuno che si era ferito mentre accoltellava le vittime. Così ordina la squadra investigativa di perlustrare il quartiere tenendo d'occhio le persone che magari portavano una benda sulla mano. Questa osservazione rappresenta la chiave di volta che conduce il detective direttamente all'assassino. La prima svolta nel caso si registra già il 5 settembre 1989. Il giorno successivo al ritrovamento della famiglia Heaton brutalmente assassinata in casa propria. Due detective stanno perlustrando un parco a Baden Woods e notano un giovane del quartiere al loro familiare Craig Price. Quando era più piccolo giocava a basket in una squadra giovanile locale allenata proprio da uno dei due detective. Quando lo vedono nel parco gli investigatori si fermano a chiacchierare con lui che al momento a dirla tutta non è nemmeno un sospettato. Tuttavia gli agenti sanno che Craig frequenta molto il quartiere e che quindi avrebbe potuto vedere o sentire qualcosa di importante. Quando i detective gli chiedono se sappia che in giro c'è un assassino capace di freddare un'intera famiglia Craig reagisce con uno sguardo preoccupato. Dice immediatamente che siccome abita soltanto un paio di case di distanza da quella del delitto sa bene che è successo qualcosa di brutto. Sostiene anche di aver visto quando i corpi sono stati portati via il giorno precedente. Durante la conversazione i due investigatori abbassano lo sguardo e notano che il ragazzo ha una benda sulla mano sinistra. Chiaramente sono sorpresi ma non prendono neanche in considerazione l'idea che Craig possa essere coinvolto nel triplice omicidio. Uno dei due detective chiede a Craig come si sia ferito. L'adolescente afferma di essersi ubriacato diverse sere prima e di aver preso a pugni un'automobile parcheggiata rompendo il finestrino e quindi ferendosi. Nella storia di Craig tuttavia c'è qualcosa che non convince gli investigatori. Sembra che l'abbia totalmente inventata. Nonostante ciò ipotizzano che Craig non voglia fornire informazioni dettagliate a degli agenti di polizia visto che di fatto aveva vandalizzato un veicolo nel quartiere. Gli investigatori quindi non credono che un adolescente vivace ma bonario come Craig sia in grado di commettere crimini efferati come l'omicidio della famiglia Heaton. Nonostante ciò i due detective non possono ignorare le evidenti coincidenze. Craig vive nella stessa strada degli Heaton e ha una ferita sulla mano dunque sono costretti ad indagare su di lui. Una volta che i detective tornano alla centrale di polizia iniziano a scavare nella vita di Craig Price. Scoprono che non c'è alcun rapporto riguardante la rottura del vetro di un'auto nel quartiere menzionato da Craig. Quando vanno nella strada in cui Craig ha detto di aver preso a pugni la macchina da sbronzo notano che lì non c'è neanche un frammento di vetro rotto. È così che Craig diventa un sospettato valido per gli omicidi della famiglia Heaton. Ovviamente i due detective non hanno prove a sufficienza per procedere con l'arresto quindi devono trovare altri indizi che avvalorino la loro tesi. Intanto altri membri della task force contattano il più importante scienziato forense del mondo il dottor Harry C. Lee e gli chiedono di analizzare il sangue a casa Heaton per ottenere ulteriori indizi. In effetti un prezioso indizio viene scoperto, ossia l'impronta di un calzino insanguinato. La taglia di questo calzino è rilevante. A indossarlo era stato qualcuno che misura un 47 e mezzo di piede. A differenza di quanto consideravano prima i due detective ci sono altri poliziotti consapevoli che Craig Price, nonostante i suoi soli 15 anni di età, non è il classico adolescente che fa marachelle di poco conto. Il ragazzo ha accumulato precedenti penali per i reati di furto, uso di sostanze, violazione di domicilio. Inoltre era solito spiare nelle case altrui. Alcuni ufficiali sono ben consapevoli anche del suo temperamento assai violento. A quanto pare la polizia era stata chiamata un paio di volte per risolvere alcuni problemi in cui Craig era coinvolto. Dunque alcuni investigatori impegnati nel caso Heaton ritengono che sia giunto il momento di interrogare Craig in maniera più approfondita. Vanno a casa sua e chiedono a lui e ai suoi genitori di seguirle alla stazione di polizia. E tutti sono d'accordo. Gli investigatori chiedono nuovamente a Craig cosa gli fosse successo alla mano e lui rimane fedele alla versione originale sulla rottura del finestrino dell'auto. Tuttavia la sua storia ancora non si dimostra convincente e quindi gli chiedono di sottoporsi a un test del poligrafo. Craig a questo scopo accetta di tornare il giorno successivo. Il giorno seguente Craig arriva alla stazione di polizia come previsto e fa il test della macchina della verità. L'ufficiale che supervisiona l'esame gli pone delle domande su come si è ferito alla mano. Quando il test si conclude i risultati evidenziano che Craig non è stato sincero. Nonostante Craig non abbia superato l'esame del poligrafo, i detective non sono in grado di dimostrare che aveva commesso quegli omicidi. Hanno ovviamente bisogno di ulteriori prove. Gli investigatori quindi che fanno intervistano gli amici e i conoscenti di Craig e scoprono presto che il ragazzo va in giro con un gruppo di delinquenti avvezzi a svaliggiare case. Ma apprendono qualcosa di ancora più importante. Craig si vantava con tutti i suoi amici di come aveva ucciso Rebecca Spencer. Questa è la prima volta che qualcuno dall'esterno collega Craig a una delle indagini per omicidio. Gli investigatori a questo punto si recano dal giudice e ottengono un mandato di perquisizione. I detective Tim Colgan e Kevin Collins si uniscono al detective Arthur Anderson per organizzare una squadra di ricerca. Parte del loro piano consiste nell'impiegare una squadra per sorvegliare la casa di Craig la notte prima di condurre la perquisizione. Vogliono assicurarsi che l'adolescente non esca di casa. Difatti lui sarà presente quando verrà effettuata la perquisizione. Così il 17 settembre, poco prima dell'alba, agli investigatori viene dato il segnale di avvicinarsi alla casa. La prima squadra guidata da tre detective raggiunge la porta e suona il campanello. Ad aprire è il padre di Craig che rimane scioccato nel vedersi circondato da così tanti funzionari delle forze dell'ordine. Ma al di là dello shock è obbligato a farsi da parte in modo che i detective abbiano la possibilità di perquisire i locali. Gli altri membri della famiglia, incluso lo stesso Craig, vengono svegliati e viene chiesto loro di andare in soggiorno in modo che la squadra possa ispezionare la casa. Tutti sembrano preoccupati. Tutti? Tranne Craig che riesce addirittura ad appisolarsi sul divano mentre i detective perquisiscono l'abitazione. I membri della squadra di ricerca si dirigono poi verso il capanno situato dietro la casa e lì trovano un sacco della spazzatura pieno di prove a dir poco incriminanti. Coltelli insanguinati, identificati come appartenenti alla famiglia Heaton, alcuni indumenti altrettanto insanguinati, dei guanti e altri oggetti rilevanti. Pochi minuti dopo l'individuazione di questi oggetti i detective tornano in casa, svegliano Craig e lo arrestano per gli omicidi di Joan, Jennifer e Melissa Heaton. Anche in questo caso Craig non sembra stupito o preoccupato dalla situazione. Mentre gli investigatori lo portano alla stazione per interrogarlo, insieme ai suoi genitori sperano che il ragazzo ammetta i crimini che ha commesso o la sua situazione si complicherà. In effetti appena entrato nella stanza per l'interrogatorio Craig confessa apertamente di aver ucciso la famiglia Heaton. Piega nel dettaglio cosa ha fatto quella notte, anche se fornisce diverse versioni della storia che almeno all'inizio impediscono ai detective di ricostruire perfettamente l'accaduto. All'improvviso sembra che il ragazzo si sia stancato, forse ha cominciato a pensare che confessare la verità possa rendere le cose più facili per tutti. Quando John Price, suo padre, sente il racconto di Craig, è costretto a lasciare la stanza. Colto da un attacco di vomito, corre verso il bagno, ma non riesce a tornare indietro per ascoltare il resto della storia atroce di suo figlio. Shirley invece rimane al suo fianco mentre Craig racconta i dettagli di cosa è accaduto quella fattidica notte a casa Heaton, anche quelli più cruenti. Craig spiega che era entrato in quell'abitazione con la sola intenzione di rubare. Ancora all'esterno, mentre scrutava la casa con attenzione, ispezionandola lungo tutto il perimetro, aveva notato che una delle finestre della cucina era aperta ed era riuscito a entrare in casa. Una volta dentro aveva iniziato ad andare distanza in stanza alla ricerca di oggetti di valore da sottrarre. Tuttavia quando si era introdotto dalla finestra aveva fatto parecchio rumore e Joan si era svegliata. La donna entrata in cucina aveva acceso la luce e lo aveva visto. Allora Craig era stato preso dal panico, distinto l'aveva afferrata, picchiata e aveva tentato di estrangolarla. Le urla di Joan avevano svegliato le figlie, ormai certe che qualcosa stava accadendo. Le bambine erano uscite dalle loro stanze, fermandosi in corridoio. Lì avevano avvistato Craig. Merissa aveva provato a correre in cucina dove c'era un telefono con cui poter chiamare la polizia, ma l'intruso l'aveva raggiunto prima di lei. Aveva affrontato entrambe le figlie di Joan, poi era tornato in cucina, aveva aperto un cassetto e recuperato dei coltelli con cui colpirle. Ciò nonostante una delle due ragazzine era riuscita a mordere con forza la mano di Craig, facendolo infuriare ulteriormente. Il feroce aggressore allora l'aveva addirittura morsa sulla schiena e sul viso. Inoltre, pur sostenendo di non sapere perché, Craig aveva morso anche Joan. Melissa, che non smetteva mai di lottare contro di lui nella speranza di riuscire a salvarsi, era stata colpita la testa da quello sgabello. Mentre racconta del terribile delitto commesso, il ragazzo si definisce molto stupito della capacità di reazione delle tre vittime. Avevano davvero lottato fino alla fine. Dopo aver acoltellato una delle sue vittime, Craig si era tagliato accidentalmente la mano. Dunque era andato in bagno, si era tolto i guanti e aveva cercato di pulirsi le ferite. Peccato per lui che nello spostamento si era lasciato dietro una scena insanguinata e l'impronta di quel calzino. A seguito di un ulteriore esame del materiale repertato, i test confermano una strana coincidenza con la confezione di Craig. Il rapporto sull'analisi del sangue mostra che alcuni dei campioni ematici prelevati corrispondono al gruppo sanguigno di Craig. Non solo. Il giovane indossa delle scarpe di taglia 47,5. Quindi i detective deducono che stia finalmente raccontando la verità. Craig spiega agli investigatori che dopo aver commesso gli omicidi aveva avvolto i cadaveri delle vittime con delle coperte presenti in casa. Poi aveva utilizzato degli asciugamani per tentare di ripulire il sangue ma il timore di essere scoperto cresceva dentro di lui visto che stava trascorrendo fin troppo tempo sulla scena del crimine. Così aveva raccolto tutti gli asciugamani insanguinati e i coltelli, li aveva infilati in un sacco della spazzatura ed era corso via. Una volta a casa propria aveva portato il sacco della spazzatura nel capannone, poi si era tolto i vestiti insanguinati e li aveva riposti in un'altra borsa da nascondere in soffitta. Dopo questa confessione i detective tornano a casa di Craig, si recano in soffitta e individuano quella borsa con all'interno i vestiti macchiati di sangue. Quando Craig termina di fornire i dettagli sull'omicidio della famiglia Heaton, i detective gli chiedono se sappia qualcosa a proposito del delitto di Rebecca Spencer e anche in questo caso Craig ammette di essere colpevole del suo omicidio compiuto quando aveva soltanto 10 anni. Craig non ha problemi a ricostruire tutti i dettagli dell'assassinio di Rebecca e, mentre racconta la sua versione dei fatti, non mostra nessun rimorso per le sue azioni. Tuttavia, anni dopo, Craig cambierà versione. Nel 2004 concede un'intervista a un giornalista investigativo e, in questa occasione, fornisce nuovi dettagli sugli omicidi o messi nelle precedenti confessioni. Craig ricorda cosa stava pensando prima di entrare nella casa degli Heaton, ossia diceva a se stesso «lascia vivere le ragazze». Poi racconta di aver fatto il giro della casa dall'esterno, ma di non aver trovato una finestra aperta, come prima riferito, bensì l'aveva rotta per poter entrare nell'abitazione. Mentre si arrampicava sul davanzale della finestra, si era tolto le scarpe per non lasciare impronte. Una volta in cucina, aveva preso uno dei coltelli di Joan nel cassetto e si era addentrato lentamente nel corridoio verso la camera da letto della donna, ma appena toccata la maniglia della porta, si era bloccato. Aveva avuto l'impressione che ci fosse qualcuno vicino a lui nell'oscurità e non si era sbagliato. Il tocco freddo della mano di una bambina l'aveva sfiorato e lui era stato colto dal panico. Poi il panico aveva lasciato il posto alla rabbia e la rabbia era stata sorpassata da una furia accecante. Mosso da questi sentimenti, Craig aveva iniziato a pugnalare a morte Melissa. Presto li aveva raggiunti anche Jennifer, così Craig aveva aggredito pure lei e proprio in questa circostanza si era ferito accidentalmente col coltello da lui impugnato. L'intervista però non si conclude così perché Craig racconta anche dell'omicidio di Rebecca. La notte del 27 luglio 1987 Craig è nella sua camera da letto e sta fumando la sostanza leggera mentre cammina avanti e indietro. In una mano stringe una mazza da baseball di alluminio. Qualcosa lo ha fatto arrabbiare all'inizio della giornata e mentre fuma cerca di mettere ordine tra i suoi pensieri confusi. Purtroppo nella testa di Craig c'è anche un pensiero che è ben delineato. La brama crescente di commettere un omicidio. Craig deve soltanto escogitare un piano per soddisfare quella brama. Pensa di nascondersi tra i cespugli vicino alla porta d'ingresso del vicino di casa dove avrebbe aspettato l'occasione giusta per colpire. Vuole usare la sua mazza e picchiarlo a morte. Suo padre è partito, sua sorella sta passando la notte fuori a casa di un'amica quindi deve soltanto aspettare che suo fratello e sua madre si addormentino. Craig si veste di nero in modo da potersi mimetizzare nell'oscurità. Quando è sicuro che tutti dormono sgattaio è là fuori dalla porta sul retro. Desidera uccidere qualcuno con ogni fibra del suo essere e sa già dove andare. Vuole raggiungere la casa di una ventisettenne che abita lì vicino, Rebecca Spencer. Rebecca condivide una casa in affitto con uno dei suoi quattro fratelli. È divorziata ma lei e il suo ex marito sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei loro due figli. Craig ricorda che spesso ci giocava con il figlio di Rebecca lì nel quartiere. Quella notte quando arriva sul retro del cortile lancia un'occhiata al vialetto di casa di Rebecca e si blocca di colpo. L'automobile che doveva essere parcheggiata non c'è quindi le sue vittime non saranno in casa. Craig si lascia a travolgere da un senso di disperazione e si abbandona sul terreno inumidito dalla rugiada. Alla fine l'effetto della sostanza diminuisce e Craig torna a casa. Entra nella sua camera da letto e fuma di nuovo mentre pensa in modo frenetico a cosa fare. Di colpo decide che quantomeno tornerà a vandalizzare la casa di Rebecca visto che non può scagliarsi contro di lei. Di nuovo sul posto Craig si rende conto che c'è una stanza debolmente illuminata forse da una televisione. Il ragazzo quindi si avvicina ha una finestra e si rende conto che quella all'interno è una camera da letto. Nota che nella stanza sono sovrapposte tante scatole di cartone allora ripensa alle voci che girano nel quartiere a proposito del trasloco di Rebecca e di suo fratello Carl. Craig si sposta, va alla finestra a fianco e nota che dà accesso a un bagno. Si sposta di nuovo e trova la cucina. Corge pentole, padelle e vari piatti disposti a riempire tutto il bancone della cucina più altri cartoni impilati contro il muro. Poi scruta dalla finestra della sala da pranzo, all'interno ci sono altrettanti scatoloni ed è a questo punto che nota la presenza di qualcuno in casa. È sdraiato sul pavimento, rivestito di moquette, sotto una coperta blu e ha i capelli castani. Di sicuro è Carla, il fratello di Rebecca. Mentre fissa quella figura distesa a terra, sente che qualcosa gli sfiora la parte posteriore delle gambe. Craig si spaventa, si sposta di scatto lateralmente, poi si rende conto che si tratta di un piccolo gatto soriano. L'osserva e lo vede correre ed entrare in casa attraverso la porta sul retro, che è leggermente socchiusa. Craig, allora, lo segue. Apre la porta ed entra in casa silenziosamente. Quando raggiunge la porta della cucina, vede la luce tremolante che proviene dal televisore. Sbircia dietro l'angolo del soggiorno e si rende conto che la persona raggomitolata sulla moquette in realtà è proprio Rebecca, con addosso una camicia da notte, viola chiaro. Probabilmente era crollata, stremata dalla preparazione degli scatoloni per il trasloco, con la televisione sintonizzata su un canale musicale. Craig si irrigidisce e decide di tornare nella stanza buia da cui era entrato. Deve calmarsi prima di agire, è troppo scosso. Si accomoda su una sedia mentre pensa a cosa avrebbe potuto fare in quella casa, a come vandalizzare quel luogo che, presto, Rebecca, addormentata in salotto, avrebbe comunque dovuto lasciare. All'inizio Craig intendeva rubare Rebecca e appiccare un incendio in casa. Tuttavia ben presto si rende conto che questo piano non è attuabile, perché non ha portato con sé i fiammiferi e non ha idea di dove Rebecca li tenga. Così pensa di utilizzare i cavi elettrici per provocare l'incendio, ma questo piano è troppo complicato. Craig ipotizza anche di lanciare un blocco di cemento verso la finestra per frantumarla. Infine decide di aver bisogno di un'arma. Torna quindi in cucina e afferra una padella. Prova a farla uscillare avanti e indietro, ma finisce con il considerarla troppo ingombrante. Quindi rimette delicatamente a posto la padella e continua a cercare l'arma perfetta. È a questo punto che individua un coltello sul balcone della cucina. Craig lo afferra e torna in soggiorno, fermandosi accanto a Rebecca, ancora addormentata. Non sa dire da quanto tempo si trovi ormai in quella casa, così si perde nei suoi pensieri mentre fissa la donna a dormire. Di colpo viene preso dalla smania di uccidere e decide di assecondarla, accoltellando Rebecca più volte. Quando Craig fornisce questa ricostruzione la prima volta alla stazione di polizia, gli investigatori, come dopo la prima confessione, provano sentimenti contrastanti. Da un lato sono disgustati per quello che hanno sentito, dall'altro provano un travolgente senso di sollievo. Dopotutto, quante volte capita di riuscire a trovare l'autore di ben tre omicidi, più uno commesso in passato, nel giro di poche ore? Tutto ciò che resta da fare all'autorità è processare Craig. A questo punto, la sua sorte è nelle mani del procuratore. Gli investigatori coinvolti nel caso sperano che Craig venga adeguatamente punito per gli orribili crimini che ha commesso. Ciò che non hanno tenuto in conto è che, legalmente, condannarlo a una pena sostanziosa non è così semplice, perché il ragazzo ha la legge dalla sua parte. In pratica, anche se l'adolescente ha commesso quattro omicidi brutali non è prevista per lui né la prigione né tantomeno un processo. Questo perché Craig ha confessato tutti i suoi crimini prima di compiere 16 anni. Infatti, all'epoca, nel Rhode Island, vige una legge statale che consente ai tribunali di trattenere Craig in una struttura detentiva minorile soltanto fino all'età di 21 anni. Dopodiché sarebbe stato libero di uscire e tornare a vivere la sua vita. Inoltre, gli avrebbero anche ripulito la fedina penale, come se i delitti di cui Craig si era reso responsabile non fossero mai avvenuti. Questa scappatoia legale chiaramente provoca uno scalpitante clamore pubblico facendo infuriare i familiari delle vittime di Craig. Tuttavia, quando il ragazzo si è macchiato di questi delitti atroci, l'idea che esistesse un serial di età inferiore ai 16 anni non era neanche mai stata considerata. Difatti, Craig è stato uno dei più giovani serial americani della storia. Sebbene Craig non possa essere processato legalmente, deve comunque comparire in un'udienza del tribunale che si tiene il 21 settembre 1989. Il procedimento in realtà è molto breve, in quanto il giudice gli legge le accuse e Craig si dichiara colpevole. Il giudice allora lo condanna a scontare cinque anni di reclusione presso il centro correzionale giovanile del Rhode Island, che è una struttura di detenzione giovanile di massima sicurezza. Inoltre, il giudice gli ordina di sottoporsi ad alcuni test psicologici e a ogni terapia consigliata, ma Craig rifiuterà categoricamente questa disposizione. Non solo, si rifiuterà anche di discutere i dettagli dell'omicidio durante qualsiasi procedimento giudiziario, appellandosi al quinto emendamento. Ossia, nessuno può essere obbligato in qualsiasi causa penale a deporre contro se medesimo. In realtà è proprio sul consiglio degli avvocati che Craig rinuncia al programma diagnostico e terapeutico della struttura. Il motivo della raccomandazione dei suoi illegali è il timore che i giudici avrebbero potuto usare i risultati degli esami psicologici contro di lui per collocarlo, raggiunto all'età di 21 anni, in una struttura psichiatrica con ricovero involontario. Mentre i tribunali cercano ancora di costringerlo a lasciarsi esaminare e curarsi, Craig si rifà una vita presso il centro correzionale giovanile, partendo dallo studio. Arriviamo al 1993, quando Craig, dopo essersi comportato sempre bene, ha ormai consolidato una buona reputazione nella struttura, tanto che i funzionari gli concedono un trattamento speciale. Craig può addirittura girare un video di musica rap nei corridoi del centro correzionale giovanile, nonostante il brano contenga parole piuttosto minacciose. In quello stesso anno la notizia del trattamento speciale riservato a Craig suscita scalpore nei cittadini e nelle persone vicine alle vittime, che chiedono la revoca dei suoi privilegi, ottenuta soltanto dopo una considerevole quantità di protesto. Questo segna soltanto una piccola vittoria per le persone coinvolte, perché un problema ben più grande si profila all'orizzonte. La data di uscita di Craig si sta avvicinando e non si prevedono misure atti a trattenerlo oltre il suo ventunesimo compleanno. In meno di un anno e mezzo Craig sarà quindi di nuovo libero. Arriviamo all'8 giugno del 1994 con una notizia che sciocca i residenti dei Rhode Island. Craig è nuovamente accusato di aggressione e distorsione e le accuse scaturiscono da un incidente avvenuto nel centro correzionale giovanile, quando Craig ha minacciato di agredire l'agente Mark Petrella. Entro una settimana viene citato in giudizio e la sua cauzione è fissata a 500.000 dollari. Il processo è previsto in autunno. Nello stesso mese Craig affronta un altro problema. Come detto, ha sempre rifiutato le valutazioni psicologiche e la terapia, andando contro la richiesta del tribunale. Così deve ripresentarsi in aula il 27 giugno 1994. Il giudice gli ordina nuovamente di sottoporsi agli esami psicologici e Craig si rifiuta ancora. Di conseguenza il giudice aggiunge un anno alla sua condanna. Durante questo anno ulteriore, Craig deve prestare servizio presso l'istituto di correzione per adulti a Cranston, sempre nel Rhode Island. Se vuole vedere la sua pena ridotta, deve anche eseguire gli esami richiesti e sottoporsi alle cure, come ordinato dal tribunale. Quando Craig ha quasi scontato tutta la sua condanna a 5 anni, accetta finalmente di rispettare gli ordini del tribunale e di sottoporsi alla valutazione psicologica. Il dottor Spencer DeVol è il primo psicologo clinico a effettuarla. Lo psicologo concentra l'esame sulla personalità di Craig e i test psicologici in 4 sessioni. Nel rapporto finale si legge quanto segue. Craig ha dato all'esaminatore l'impressione di essere un giovane con un buon eloquio. Non sembra affatto ansioso ed è sempre stato collaborativo. In effetti, durante tutte e quattro le sessioni, Craig non mostra ostilità o negatività, piuttosto mantiene il suo senso dell'umorismo mentre risponde alle domande dello psicologo. Ciononostante, il dottor DeVol percepisce che le risposte di Craig fornite durante il test delle tavole di Rorschach dimostrano una mancanza di empatia nei confronti del prossimo e un intenso conflitto alla base del comportamento apparentemente affabile del ragazzo. Nel suo rapporto, lo psicologo scrive, sembra essere un giovane uomo limitato nelle risorse a sua disposizione per far fronte allo stress, vulnerabile perché tende a essere sopraffatto sia dagli stimoli sia dalle proprie pressioni emotive che dell'ambiente. Il risultato che si desume è disorganizzazione e perdita di controllo. Questo adolescente crede che il passato possa essere annullato provocando paura e intimidazione negli altri. Riesce a sommergere raramente i ricordi delle passate umiliazioni subite e questo risentimento può trasformarsi in una rabbia impulsiva e irrazionale. In ogni caso la valutazione non riesce a fornire tutte le risposte sul soggetto esaminato che richiederebbero ulteriori approfondimenti. Il nuovo processo di Craig inizia il 3 ottobre 1994 e il giovane viene giudicato colpevole di aggressione e di estorsione. L'udienza di condanna viene fissata per dicembre e durante questo provvedimento il giudice stabilisce che Craig avrebbe scontato altri 15 anni di reclusione presso l'istituto di correzione per adulti a Cranston. Tuttavia Craig non riesce proprio a evitare ulteriori complicazioni. Arriviamo al febbraio del 1996 quando viene coinvolto in una collutazione e morde il dito di un ufficiale penitenziario. Viene accusato di aggressione e anche di violazione della libertà vigilata sebbene fosse ancora incarcerato. Infatti quest'ultima cosa io non l'ho capita. In ogni caso per tali ulteriori accuse viene condannato. Un altro anno si aggiunge alla sua pena. Nel 1997 Craig viene di nuovo processato per oltraggio in quanto i giudici hanno scoperto che non ha rispettato quanto previsto dalle valutazioni psicologiche ordinate dallo Stato. Anche durante questo processo Craig si dichiara colpevole e viene condannato a ulteriori 25 anni. Di questi 25 anni 10 devono essere scontati nel penitenziario mentre gli altri 15 in regime di libertà vigilata. Arriviamo all'ottobre del 1998 quando Craig riceve un'altra condanna a 7 anni di reclusione per aver aggredito un altro agente penitenziario. Poi nel febbraio del 1999 e nell'ottobre del 2001 viene condannato a ulteriori 4 anni per aver aggredito fisicamente e verbalmente due funzionari della prigione fino a che non si giunge a marzo del 2009 quando a Craig viene negata la libertà condizionale. Una nuova udienza viene fissata a maggio del 2020 tuttavia a causa della sua condotta violenta Craig viene trasferito al dipartimento penitenziario della Florida una struttura di massima sicurezza. Il 29 luglio 2009 Craig provoca una rissa insieme a un altro detenuto e quando uno dei funzionari della prigione cerca di fermare la lite viene colpito con un coltello impugnato proprio da Craig. A causa di questa rissa il detenuto viene trasferito in un'altra struttura. Il 4 aprile 2017 Craig si trova nell'istituto penitenziario di Live Oak in Florida dove accoltella un altro prigioniero. Infine il 18 luglio 2019 viene nuovamente dichiarato colpevole di tentato omicidio e condannato a scontare altri 25 anni. Termino così la ricostruzione di questo caso e vorrei riporgervi delle domande e chiaramente sono domande che mi faccio anche io. Non capisco in primo luogo perché gli avvocati difensori di Craig gli abbiano consigliato di non sottoporsi mai ai test psicologici. È vero come vi ho riportato temevano che lo Stato avrebbe potuto tentare di usare quei risultati contro di lui per trattenerlo a lungo dietro le sbarre. Ma considerando il vortice di azioni lesive che Craig ha commesso dal primo processo in poi e ciò che gli è costato in termini di progressione della pena chissà se avrebbe potuto trarre beneficio dalla terapia che si era rifiutato di affrontare. Cosa ne pensate? Pensate che Craig sia stato sincero quando ha raccontato l'episodio degli insulti razzisti ricevuti da quei ragazzi più grandi del suo quartiere? Ebbene Craig potrebbe aver detto la verità certo tuttavia potrebbe anche aver inventato quella vecchia storia magari la ripetuta infinite volte nella sua testa fino a convincersi che quella bugia fosse la realtà. Voi che cosa ne pensate? Io ho finito di parlare in questo video e tutte le domande che mi giravano in testa comunque ve le ho già fatte quindi non mi resta che mandarvi un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!